Eccoci e bentornati sul mio canale, brevissimo video di aggiornamento sempre su Call of Duty Se vi siete persi i primi due gameplay delle nuove mappe zombies del DLC Zombies Chronicles Andatele a vedere che l'ho pubblicato sul mio canale Oggi alle 16 alle 19 arriveranno altri due gameplay sempre delle mappe zombies Perché questo video di aggiornamento? Perché vi volevo informare sulla presenza di ben 5 nuove mimetiche All'interno della modalità multiplayer e della modalità zombies di Call of Duty Black Ops 3 Se andiamo in extra potremo trovare queste mimetiche bellissime La mimetica Topaz, la mimetica Garnet, la mimetica Sapphire, la mimetica Emerald e la mimetica Amethyst Che è qualcosa di bellissimo Vediamo se riesco a farvela vedere su un'arma, ad esempio il Brecci dove si vede molto di più Oppure che cosa abbiamo? Il Man of War anche Utilizziamo il Brecci dove si vedono abbastanza bene le mimetiche Vi faccio vedere queste 5 nuove mimetiche Guardate che bella questa gialla Questa è la rossa Questa è la blu Questa è la verde E pronti per quella viola Guardate che cavolo di mimetiche Una più bella dell'altra Presente all'interno del multiplayer e zombies di Call of Duty Black Ops 3 Fatemi sapere che cosa ne pensate E noi ci vediamo con tanti nuovi video Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale Mettete un bel mi piace sul mio video E ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video Sempre qui, sempre sul mio canale